Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. La notte di Halloween si avvicina e voi non avete giochi a tema e non avete neanche voglia di comprarne nuovi? Vi aiutiamo noi ad hallowinizzare i giochi che avete. Sigla! La tematica della paura. Nei giochi è abbastanza frequente. Si trovano spesso giochi in cui ci sono mummie, ragni, vampiri, atmosfere un po' di mistero. Ma se proprio voi non amate questo tema, però volete dei giochi a tema per la notte di Halloween, potete hallowinizzare appunto quelli che già avete. Se ti piacciono i nostri video, ti abbiamo dato qualche consiglio interessante o ti stiamo simpatici, iscriviti al nostro canale. Puoi seguirci anche sui nostri social che sono Instagram e Facebook. Trovi tutti i link nell'info box. Halloweenizzare un gioco non è poi così difficile. Potete agire su vari fronti. In particolare potete modificare l'aspetto del gioco introducendo materiali a tema oppure potete modificare le regole introducendo le nuove per rendere il gioco un po' più cattivello. Io vi proporrò nuove regole di giochi molto conosciuti, quindi è molto probabile che li avete già. Ma vi fornirò anche delle idee generali che si possono applicare a tutti i giochi. Quando vi parlo di materiale da stampare, lo potete scaricare gratuitamente nell'info box. C'è un file, basta che ci cliccate e lo potete stampare. Qui troverete dei materiali sia in bianco e nero che a colori. Per rendere un gioco più spaventoso, come vi dicevo, potete sostituire la componentistica. La prima cosa su cui potete agire sono le pedine. Sicuramente troverete dei piccoli pupazzetti o delle decorazioni che potranno essere utilizzate a questo scopo. Delle dimensioni ideali per fungere da pedine ci sono le sorpresine degli ovetti Kinder. Potete rispolverare delle vecchie glorie come i vampirelli o i fantasmini oppure usare le sorpresine attuali. Se non vi piace nessuna di queste opzioni o non avete questi pupazzetti, potete scaricare gratuitamente delle pedine di carta da tagliare e montare. Le troverete nel file che vi ho citato prima. Altri materiali che potete sostituire nei vostri giochi e renderli maggiormente adatti al periodo sono i tastali primo giocatore. In questo caso potete utilizzare degli oggetti un po' più grandi da dare appunto al primo giocatore. A me vengono in mente dei peluche che hanno appunto le fattezze di vampiri, di fantasmi, di diavoletti, eccetera. Questi peluche oppure degli squishy spaventosi li potete usare anche come buzzer o campanelli che ci sono in vari giochi che serviranno per prenotarvi. Nei giochi con i gettoni potete introdurre un sacchetto spaventoso. Mettete i gettoni in un sacchetto che non fa vedere ciò che c'è dentro e aggiungete i gettoni del materiale che darà delle strade sensazioni sulle mani. Quindi potete utilizzare delle piume ma anche degli insetti finti. Per rendere il tutto più spaventoso potete fare delle premesse in cui raccontate che nel sacchetto ci sono degli esseri spaventosi. Qualcuno più credulone si spaventerà di certo. Infine potete usare dei dati raccontastorie con delle facce spaventose. Quindi prima di ogni partita segnatevi alcune combinazioni che potranno dare dei bonus o dei malus ai giocatori. Quindi prima di ogni turno tutti dovranno tirare questi dadi e vedere se esce una di queste combinazioni. Ad esempio la combinazione fantasma-zucca vi potrà permettere di spostarvi una qualsiasi casella del percorso oppure la combinazione gatto-nero e ossa farà tornare tutti gli altri di un passo indietro. Non vi posso fornire delle informazioni più precise perché ci sono tanti tipi di dadi raccontastorie. I miei sono un po' vecchiotti e sono di Flying in Tiger e anche i giochi a cui si può applicare questa regola sono tanti e quindi vi lascio a voi la scelta dei dadi e delle regole. Arriviamo al clu del video in cui mi sono ingegnata per fornirvi del materiale che vi permetterà di alluminizzare i giochi che già avete. Ho scelto come vi ho detto dei giochi molto conosciuti che è probabile che già avete. Allora cominciamo con Forza 4. Nel file troverete delle carte con degli schemi aggiuntivi. A ogni turno sceglietene una sola e ponetela in modo che tutti e due i giocatori la possono vedere. In quel turno potete vincere sia se riuscite a fare una normale fila di quattro gettoni in verticale, orizzontale e diagonale o se riuscite ad affilare i gettoni come mostrate nell'immagine. Questa carta potrà essere ruotata a piacimento quindi le combinazioni potranno essere ruotate a piacimento anch'esse. La seconda proposta ve la faccio sul labirinto magico o labirinto o labirint ci sono tantissime versioni di questo gioco e ormai ce l'hanno quasi tutti a casa quindi sono convinta che anche voi ne avete una copia. In questo caso vi serviranno le carte e i gettoni sempre del file le potete trovare sia a colori che in bianco e nero ritagliatele e ponetele sulla plancia di gioco dovete giocare con queste e non con le carte fornite nella scatola quindi giocate normalmente quindi spostate il labirinto poi spostate la vostra pedina e cercate di catturare i tesori che ci sono nelle vostre carte chi per primo finisce le carte dovrà tornare al posto chi riuscirà in questa impresa sarà il vincitore per non essere un gioco molto divertente anche quando siete in tanti nelle ultime versioni ci sono delle decorazioni per la fascia che vi permette di tenere le carte in testa la mia edizione ce l'ha e ho pensato di aggiungere 4 decorazioni che potete utilizzare nella notte di Halloween se non avete questa versione del gioco ma le altre penso che queste fasce siano comunque compatibili se non avete proprio il gioco non preoccupatevi potete utilizzare queste decorazioni per creare delle fasce personalizzate in questo caso vi serviranno delle striscioline di cartoncino lunghe almeno come la circonferenza della testa di ogni partecipante è meglio se un po' di più poi ritagliate queste decorazioni che vi ho fornito tagliate due buchi laterali ma non quello centrale in quello centrale tagliate col taglierino solo la parte superiore della forma in questo modo potete incastrarci un bigliettino poi incastrate la striscia di carta nei pertugi come mostrato nelle immagini e quindi mettete sulla testa di ogni giocatore un reggi carte possono essere fissati con dello scotch oppure facendo dei taglietti alternati sul cartoncino stesso a questo punto non vi resta che creare dei bigliettini con delle tematiche spaventose da consegnare una a ogni giocatore senza farli rileggere quindi ognuno facendo delle domande che prevedono una risposta solo un sì o no avrà un determinato tempo un minuto per indovinare ciò che ha scritto in testa se no dovrà passare la mano vince il giocatore che per primo riuscirà a indovinare tre bigliettini come avete potuto vedere all'onizzare un gioco non è poi così difficile basta un po' di inventiva e potete rendere spaventosi i giochi che già avete in libreria se anche voi alluminizzerete qualcuno dei vostri giochi utilizzando le nostre idee o avendo nuove idee fatetelo sapere in un commento e se volete potete taggarci nelle vostre foto su Instagram se alluminizzerete appunto un gioco grazie di aver visto questo video alla prossima ciao ciao